Ciao, ciao, ho visto che mi guardavi. Non frequenti nessuno, immagino. Non ti vedo mai con nessuno. Tua madre e tuo padre? Sì, sono morti prima che compissi 12 anni. Sto cercando di scrivere qualcosa su di loro. Come procede? In modo strano. Ciao. Ciao. È reale? Ti sembra reale? Il nostro ragazzo è tornato. Nostro figlio. Guardati, eri solo un bambino. E ora non lo sai più. Tanto tempo fa. Ma non credo che importi. Mi sono sempre sentito estraneo nella mia famiglia. Avevi sempre paura. Scappavi di continuo, ricordi? Scusa se non venivo da te quando piangevi. Che strano, non serve molto... ...per sentirsi di nuovo come a quel tempo. Vorresti innamorarti di lui? Mi sentivo sempre solo. Questa è una sensazione nuova. Io... ...e te... ...insieme. Nel mondo. ... ... Grazie a tutti.